A partire San Giovanni? Siccome voi siete, allora siccome voi non siete scegli, ma siete molto intelligenti, soprattutto vi sapete guardare intorno, c'è qui intorno qualche mondo in cui si attregano dei ragazzini come voi? Stanno sempre insieme? Ragazzi, per giocare? Bello! Anzi, è bellissimo, magari! Ma c'è qualche posto nel canto in cui succede qualcosa di strano? Sì, ora, attenzione, state mandando da quelli perché quelli fanno un salone droghe. Mamma mia, che buona droga! Allora, voi conoscete le droghe? Sì? Ma perché avete studiato? Avete fatto una ricerca? Avete scritto a parlare? Avete navigato su internet? Oh! Sì, ora, per cose serie, per fare ricerche di storia, geografia, fisica, matematica, tutte quelle che volete, ma lasciate stare certi tipi di ricerche che oltretutto non vi danno niente, anzi, vi introducono in un mondo che per adesso, per voi, è soltanto un mondo così...